Musica Capodanno 2020, arriva il messaggio del Vescovo Monsignor Antonio De Luca alla comunità diocesana. Primo giorno dell'anno da consacrare alla madre di Dio. Padula, assemblea dei soci del Gallo Vallo di Diano, rinnovato il consiglio di amministrazione, entrano di Brizzi, Mastrandrei e Capozzolo. San Pietro Altanagro, alberi a rischio caduta, il gruppo San Pietro in movimento invita ad effettuare verifiche sul territorio. Teggiano, consiglio comunale, approvata all'unanimità il regolamento per la rateizzazione dei tributi comunali. Padula, certosa di San Lorenzo, tutto pronto per il gemellaggio con la certosa di Calci. Ben trovati con il nostro telegiornale. Il Vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, lancia un messaggio alla comunità diocesana in vista del nuovo anno. Monsignor De Luca invita a consacrare il primo giorno dell'anno alla madre di Dio che ci ha dato la vita. Il Vescovo inoltre ricorda in questo messaggio come nei giorni che viviamo e nelle lotte che affrontiamo quotidianamente non dobbiamo mai sentirci soli, ma andiamola ad ascoltare. Il primo giorno dell'anno vogliamo proprio scambiarci quest'augurio, quest'auspicio di pace, di riconciliazione e di impegno. Il tempo che passa non è una sciagura, è una benedizione. E il primo giorno dell'anno viene consagrato a questo scambio di promesse di preghiere, di impegno vicendevole e qualcuno anche di formule scaramantiche. Noi vogliamo consagrare il primo giorno dell'anno alla madre di Dio, a con lei che ci ha donato la vita, la luce, con lei che con la sua protezione ci accompagna. I giorni, le settimane, i mesi che il Signore ci riserva sono il campo del nostro impegno, della nostra lotta quotidiana. In nessun momento possiamo e dobbiamo sentirci soli. Il nuovo anno si apre con questo messaggio straordinario che il Santo Padre ha inviato come di consueto a tutti gli uomini e alle donne di buona volontà. La pace è sempre un cammino di speranza, di dialogo, di riconciliazione e di conversione ecologica. Nel silenzio e nell'indifferenza si costruiscono muri, barriere, si sottolineano le distanze. Questo è il tempo dell'incontro, questo è il momento dell'inclusione. Il quadrante della storia segna questo necessario appuntamento di ascolto, di apprezzamento e di mobilità culturale, spirituale ed umana. E la conversione ecologica. Quante abitudini belle, nuove e semplici dobbiamo riscoprire per salvaguardare l'ambiente, la casa comune, il creato. Quanti piccoli atteggiamenti invece sono fuoriere di disprezzo del creato, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo. Abbiamo bisogno di riprendere gli stili semplici della vita, il senso del riciclo, del risparmio e della sostenibilità. Soprattutto riscoprire la destinazione universale dei beni. Solo così il mondo potrà inaugurare un anno all'insegno della giustizia, dell'uguaglianza e della pace. Auguri di buon anno alle vostre famiglie. Un augurio straordinario alle persone sole, a coloro che sono provati dalla malattia, coloro che avvertono il peso della solitudine e dell'indifferenza. Un augurio di buon anno ai nostri giovani che sono assetati di futuro e di impegno che vogliono realizzare a favore delle nostre comunità. Un augurio di buon anno alle comunità dei nostri concittadini e connazionali che lontani dalla nostra terra custodiscono i legami e gli affetti. Per tutti scenda copiosa la benedizione del Signore e la protezione della Madre di Dio. Auguri di buon anno a tutti. Ed ora cambiamo argomento. Il GAL Vallo di Diano si è riunito ieri sera per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. New Entry per la parte pubblica e privata. Entrano a far parte del CDA Valentino Di Brizzi, presidente dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano, Antonio Mastrandrea per la Banca Montepruno e Rosario Capozzolo per il Comune di Sant'Arsenio. Confermato inoltre Attilio Romano come presidente. Vediamo. Ieri sera a Padula, presso la sede del GAL Vallo di Diano, rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Volti nuovi, ma comunque di provata esperienza all'interno della compagine amministrativa. Mentre è stato confermato il nome di Attilio Romano come presidente del GAL, fiducia rinnovata da parte di tutta la parte pubblica oltre che privata, si verifica un cambiamento per due terzi della parte privata. In occasione dell'Assemblea dei Soci presenti hanno approvato l'ingresso in Consiglio di Amministrazione di Antonio Mastrandrea e Valentino Di Brizzi. Di Brizzi, presentando la sua candidatura come referente per le associazioni, essendo presidente dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano, ha potuto contare sull'appoggio delle altre associazioni che hanno approvato il suo ingresso, così come dei diversi soci chiamati a decidere sui nomi da inserire in CDA. La sua esperienza alla guida di associazioni locali, oltre che del confì di Vallo di Diano, ma anche per la sua attività di imprenditore del territorio che conosce bene le dinamiche di sviluppo e le necessità dell'area, può rivelarsi di grande supporto all'interno della compagine amministrativa. Il nome di Valentino Di Brizzi ha infatti raccolto l'appoggio anche degli altri membri della parte pubblica e privata in generale. Importante e di grande aiuto potrà rivelarsi anche l'ingresso di Antonio Mastrandrea come rappresentante per la Banca Montepruno. La sua giovane età potrebbe ingannare sulla sua grande esperienza e sull'importante apporto che potrà fornire al GAL Vallo di Diano. Responsabile segreteria della direzione generale della Banca Montepruno, Mastrandrea è anche presidente dell'Associazione Montepruno Giovani e in questo ruolo è spesso a contatto con i giovani del territorio per recepirne necessità e idee che potranno rivelarsi utili nel suo nuovo ruolo di membro del CDA del GAL, che si pone tra le finalità anche quello di individuare opportunità lavorative e di sviluppo capaci di trattenere i giovani sul territorio e ridurre il fenomeno dell'emigrazione giovanile. I nuovi volti della parte privata vanno quindi ad affiancare il nome noto di Antonio Viglietto in rappresentanza della BCC di Buonabitacolo, confermato senza intugio all'interno del CDA. Volto nuovo e giovane anche nella parte pubblica. Rosario Capozzolo è il nome scelto dal comune di Sant'Arsenio a cui spettava il posto in consiglio e che era vacante dal 2016 a seguito dello scioglimento del consiglio comunale. Il posto era stato occupato temporaneamente dal presidente della comunità montana Vallodidiano, Raffaele Accetta. Lo scorso luglio, da Sant'Arsenio, al momento della convalida del nome di Donato Pica, era anche arrivata la lettera di rinuncia dell'incarico da parte dello stesso sindaco. Nodo finalmente è sciolto ieri sera con l'ingresso di Rosario Capozzolo, vice sindaco e assessore al comune di Sant'Arsenio, che entra come componente della parte pubblica. Il nuovo consiglio d'amministrazione resterà in carica fino al 31 dicembre del 2022. E come abbiamo sentito, Attilio Romano è stato confermato alla guida dell'ente. Una riconferma che arriva senza indugio alcuno da parte di tutta l'Assemblea, che ha voluto rinnovare la fiducia, visto anche la gestione attenta di questi ultimi anni. Soddisfatto per la riconferma il presidente, che l'ha giunto telefonicamente dalla nostra redazione, ringrazia quanti hanno sostenuto la sua rielezione, parla anche dell'importante compito che spetta all'ente in materia di sviluppo del territorio. Devo ringraziare il presidente Accetta, insieme naturalmente ai sindaci che mi hanno voluto rinnovare questa fiducia, naturalmente anche tutta la parte privata, le banche che hanno presenti. Ovviamente non sono stato l'unico a svolgere questo ruolo così importante e delicato, insieme con me c'è stato un consiglio di amministrazione davvero serio, autorevole, preparato, qualificato. Approfitto di questa occasione per mandare un abbraccio, un caro saluto sia a Rosanna Coiro che a Maddalena Cava, che in questa tornata hanno deciso di fare un passo indietro e di favorire l'ingresso di altri soggetti, altre figure. Faccio un grande in bocca al lupo naturalmente ai nuovi entrati, a Rosario Capozzolo, a Valentino Di Brizzi, a Antonio Martandrea, che sono quelli che sono entrati a far parte del nuovo consiglio di amministrazione. Naturalmente orminovato auguro in bocca al lupo anche a Antonio Viglietta, che è stato insieme con me ad essere confermato. Credo che abbiamo raggiunto con questo nuovo CTA un ottimo equilibrio tra l'ingresso tra figure giovani, che è importante inserire, e l'esperienza consolidata. Per quanto riguarda un bilancio della società, in maniera molto, cercherò di essere puntuale, ma anche molto sintetico, dico semplicemente che noi abbiamo certamente fatto un grande lavoro in questi tre anni precedenti. E ora tutto quel lavoro che è stato fatto di semina, così lo possiamo chiamare, ora dobbiamo passare alla fase della raccolta di questa semina importante che abbiamo fatto sul territorio. Sono arrivati, lo dicevamo ieri sera alla fine dei soci, già 111 progetti al GAL per essere finanziati. Noi purtroppo non potremo finanziare tutti i 111 progetti, 96 per la parte privata, solamente 15 per la parte pubblica, quindi questo dà anche il segnale di quanto è stato fatto di buono, perché potremmo anche fare scelte diverse, destinando queste risorse più ai comuni, al pubblico, per fare anche un po' di politica così, tra virgolette, invece è stata fatta un altro tipo di scelta, un altro tipo di decisione. Abbiamo destinato la maggior parte le risorse ai privati, per dare spazio al mondo del lavoro, all'imprenditoria, a favorire nuova occupazione, il turismo, nell'artigianato, nell'agricoltura, naturalmente che è il nostro tema portante. E questo ormai ci gratifica e siamo veramente molto consapevoli del lavoro che abbiamo fatto. E quindi vi dicevo di questi 111 progetti. Di questi 111 progetti gli istruttori che abbiamo già incaricato sono già al lavoro da diverse settimane. Noi cercheremo di tirare fuori il meglio, di far emergere il merito, naturalmente, la meritocrazia, la puntualità nei progetti presentati, ma certo è che io ritengo che possa essere già un grande risultato se riusciremo a finanziare una metà, una cinquantina, ciò sarebbe un grande risultato. Questo non per demerito delle progettualità che sono state presentate, ma purtroppo per una questione di disponibilità di risorse finanziarie, perché i risorsi finanziari non sono illimitate, quello che è il Gala, sono piuttosto contenute. A noi deve essere riconosciuto il ruolo di una società che opera con piena trasparenza, con serietà, con dedizione, con impegno, con lavoro. E insieme con la comunità montana che sta gestendo questo grande e bel progetto delle aree interne cerchiamo di fare gli interessi di un territorio che ha certamente bisogno di tanta sensibilità, di tanta attenzione da parte di tutti noi. Andiamo avanti. Polla, unico comune del Vallo di Diano, ad ottenere il finanziamento di ben 485 mila euro che saranno destinate all'efficientamento energetico dell'edificio comunale, sede del comando di polizia locale del giudice di pace in piazza Gerardo Ritorto. Il comune di Polla è ampiamente entrato in graduatorio a sesto posto tra i 22 progetti finanziabili dalla regione Campania con fondi POR FESR 2014-2020. Grande soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale che affermano con orgoglio ancora una volta raccoglie i frutti di un buon operato a servizio della comunità pollese. Andiamo avanti. Ci spostiamo a San Pietro Altanagro dove il gruppo di opposizione consigliare scrive al sindaco e al settore viabilità della provincia di Salerno per invitare a mettere in sicurezza gli alberi sul territorio. L'iniziativa arriva anche a seguito dell'incidente verificatosi nei giorni scorsi con la caduta, causa maltempo, di un albero sulla strada provinciale 426. I dettagli. Alberi ad alto fusto pericolosi per l'incolumità degli automobilisti e di chi quotidianamente attraversa le strade del territorio di San Pietro Altanagro. Una situazione che ha spinto il gruppo di San Pietro in movimento ad effettuare sopralluoghi e di conseguenza richiedere verifiche sulla stabilità degli alberi soprattutto se messi a dimora nei pressi delle arterie stradali. Nella giornata di ieri il gruppo capeggiato da Piera Romando ha inviato al sindaco Domenico Quarante e referenti del settore viabilità della provincia di Salerno una lettera di segnalazione della situazione di pericolo e la conseguente richiesta di messa in sicurezza e verifica degli alberi prospicienti fronte stradale. Una richiesta che arriva immediatamente all'indomani dell'incidente verificatosi sabato scorso lungo la strada provinciale 426 nei pressi dell'hotel Tanagro quando un albero si è abbattuto sulla strada colpendo un'auto che era in transito in quel momento. Il gruppo San Pietro in movimento ha quindi deciso di effettuare una ricognizione del territorio per valutare la situazione degli alberi in particolare nelle aree maggiormente frequentate. Da qui la lettera di richiesta di intervento in cui gli iscriventi Piera Romando, Giuseppe Coiro e Antonio Ricotta evidenziano come, così come accade su tutto il territorio nazionale anche a San Pietro vi sia una massiccia presenza di alberi di pino che per la loro conformazione, ossia dal busto sottile allungato con radici molto superficiali li rendono anche particolarmente soggetti ad oscillazioni provocate dal vento forte. A seguito dei sopralluoghi effettuati dal gruppo consigliare inoltre sembra che sul territorio insista diversi alberi che possono essere ritenuti potenzialmente pericolosi. Da qui la richiesta è inviata anche sulla base della necessità e degli obblighi degli enti preposti in quanto proprietari delle strade che secondo il codice della strada sono tenuti a garantire manutenzione, gestione e pulizia delle strade di competenza. Obblighi che ricadono anche sui proprietari di siepi o alberi prospicenti alle arterie stradali. Nella lettera il gruppo di San Pietro in movimento chiede la verifica immediata della situazione degli alberi e la loro eventuale propensione al ribaltamento da effettuare a cura di tecnici specializzati. Divulgare l'esito delle verifiche, predisporre un piano di abbattimento per gli alberi che dovessero rivelarsi pericolanti. E inoltre chiede di predisporre interventi di potatura per quelli che non dovessero invece rivelarsi pericolanti oltre che di adozione delle misure adeguate per la messa in sicurezza soprattutto per gli alberi situati lungo le arterie stradali. Importante novità per i tegianesi a partire dal 2020. Ieri sera, nell'ultimo Consiglio Comunale dell'anno, è stato approvato all'unanimità il regolamento per la rateizzazione dei tributi comunali su proposta del Consigliere con Antonio Delia. Approvato all'unanimità dei presenti nel Consiglio Comunale di Teggiano il nuovo regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali che siano tributarie o extra tributarie. I consiglieri riuniti ieri sera per l'ultimo Consiglio Comunale del 2019 hanno appoggiato all'unanimità la proposta presentata dal Consigliere con Antonio Delia e il regolamento proposto per richiedere la rateizzazione delle somme dovute al Comune da parte dei cittadini. Partendo dai principi che hanno spinto verso l'approvazione del regolamento basati, come si legge nel documento, sul ruolo dell'amministrazione comunale chiamata a rimuovere gli ostacoli che siano di carattere sociale o comunque contingenti ad una situazione economica difficile che ostacolano la volontà del contribuente di adempiere agli obblighi nei confronti del Comune. Il regolamento apre la rateizzazione di pagamento dei debiti verso l'ente che siano di natura tributaria o extra tributaria con avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali. Una rateizzazione che prevede la ripartizione in rate mensili non inferiori a 50 euro purché di importi superiori a 200 euro e che, a seconda dell'importo, potranno essere ripartite dalle 4 alle 24 rate mensili. Nel regolamento, inoltre, si legge che, per importi superiori a 10.000 euro, la rateizzazione è subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria. Compito di valutare le domande di rateizzazione dei tributi è demandato al funzionario responsabile dei tributi che, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e valutata tutta la documentazione relativa, adotterà il procedimento. Il 2020 a Teggiano si apre quindi con una buona notizia per i contribuenti tegianesi che potranno così usufruire di un importante vantaggio per saldare il debito nei confronti del Comune. Un'iniziativa quella proposta dal consigliere Delia che ha raccolto anche il parere favorevole dell'intero Consiglio Comunale riunito in assise ieri sera. Sono soddisfatto, commenta con Antonio Delia, che una tematica così importante per la comunità abbia visto la luce con il vaglio positivo dell'intero Consiglio Comunale. Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio dove il Comune ha pubblicato un bando di gara per la concessione degli impianti sportivi comunali. Andiamo a vedere tutti i dettagli nel prossimo servizio. Il Comune di Sant'Arsenio, pochi giorni prima del Natale, ha pubblicato un bando di gara per l'individuazione di soggetti disponibili e idonei a utilizzare le strutture sportive comunali, ovvero il campo di calcio Fratelli Cardiello e i campetti di calcetto e tennis che si trovano in località difesa. La concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, il pagamento delle utenze ed il diretto coordinamento di ogni attività svolta nelle strutture. Per l'ammissione alla procedura, le imprese partecipanti dovranno possedere requisiti indicati dal disciplinare di gara, con la documentazione relativa al bando che potrà essere visionata e ritirata in copia presso l'ufficio tecnico comunale. Le imprese interessate dovranno far pervenire al protocollo del Comune di Sant'Arsenio, a mano a mezzo raccomandata postale, un unico plico sigillato, contenente la busta dell'offerta e la busta della documentazione amministrativa richiesta. La scadenza da rispettare è stata fissata alle ore 12 del prossimo 14 gennaio. La data della gara sarà stabilita a seguito della consegna delle offerte e debitamente comunicata ai candidati. Nel corso della stessa, inoltre, potranno assistere i legali rappresentanti o delegati di tutte le ditte concorrenti. L'aggiudicatario stipulerà un contratto della durata di cinque anni, dal 2020 al 2025, e il valore complessivo dell'appalto, posto a base d'asta, è di 6.000 euro, dovendosi corrispondere all'ente un canone annuo di 1.200 euro. L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell'offerta percentuale in aumento rispetto a quanto stabilito. Tutto fatto per il prossimo gemellaggio che vedrà coinvolte la Certosa di San Lorenzo Appadula e la Certosa di Calcin Toscana. A breve la firma. Un'altra importante iniziativa che dà lustro alla cultura e all'arte presente nel Vallo di Diano. È stato predisposto il patto di gemellaggio che vede coinvolte la Certosa di San Lorenzo Appadula e la Certosa di Calcin Toscana. Un documento che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti protempore di diversi enti ed associazioni delle due località, tra i quali il direttore del Polo Museale della Toscana, Stefano Cascio, la direttrice del Polo Museale della Campania, Anna Imponente, il sindaco di Padula, Paolo Imparato, il sindaco di Pisa, Massimiliano Ghimenti, e tanti altri esponenti dell'associazionismo culturale toscano e campano. Il giorno del Nero su Bianco sarà il prossimo 11 gennaio 2020 presso la Certosa di San Lorenzo Appadula, in cui presenzieranno tutte le personalità citate allo scopo di definire un patto che allarga ulteriormente i confini delle nostre bellezze museali, creando un canale diretto, in questo caso, con la Toscana e la Certosa di Calci. Dell'atto di gemellaggio e parte integrante e costitutiva il protocollo d'intesa allegato, firmato lo scorso 30 maggio, nel quale sono disciplinati nell'ordine lo scopo del gemellaggio, la sua funzione operativa, l'attività di collaborazione che sarà garantita da tutti i rappresentanti degli enti e delle associazioni coinvolte, la disponibilità di risorse economiche e la durata della validità del protocollo. Ed ora la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. Torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie. A tra poco. Ben trovati con la seconda parte del nostro telegiornale. Ritorniamo a Padula, dove è stato rinnovato nei giorni scorsi il consiglio direttivo ed eletto il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Padula. All'unanimità è stata eletta Ilaria Tardugno. Il Forum dei Giovani di Padula è arrivato alla terza tornata elettorale della sua storia. Nei giorni scorsi è stato rinnovato il consiglio direttivo ed eletto il nuovo coordinatore. All'unanimità è stata scelta Ilaria Tardugno a completare la squadra Sara Cassino, Vincenzo Cassino, Antonio Lezzi, Rosanna Vitale, Raffaele Vitale, Giovanni Tepedino, Luca Cabella e Francesco Sarli. Nel corso di questa settimana durante la prima riunione verranno assegnate le cariche di vice coordinatore, segretario, tesoriere e gli ambiti di lavoro dei consiglieri. L'elezione è avvenuta presso la sala comunale dell'ex cinema Orchidea alla presenza dell'assessore alle politiche giovanili Filomena Chiappardo e del responsabile comunale Antonella Cartolano. È un momento importante per tutta la comunità giovanile padulese, dice la neoeletta coordinatrice Laria Tardugno. Dopo i primi due mandati questo terzo direttivo segnerà un naturale ricambio generazionale. Il Forum dei Giovani di Padula attualmente è un punto di riferimento per le politiche giovanili in tutta la provincia di Salerno ed è in merito soprattutto dei ragazzi che ci hanno preceduto dai consigli direttivi passati preseduti da Nicola Cessario e Annalisa Lagalla passando per tutti i giovani che hanno partecipato in questi anni alle attività targate forum. Ora è il nostro compito continuare a stimolare l'aggregazione il dibattito la vita civica seguendo la scia tracciata da chi ci ha preceduti. Il Forum spiega l'assessore Chiappardo è lo strumento più importante di partecipazione alla vita e alle istituzioni democratiche. Faccio un grande in bocca al lupo alla nuova coordinatrice a tutti i ragazzi con l'auspicio conclude che si rafforzi sempre più la collaborazione tra i giovani del territorio e l'amministrazione comunale. Andiamo avanti giovedì 2 gennaio alle ore 19 nella chiesa del Santissimo Salvatore Accaggiano si terrà il concerto di Natale Gospel Italian Sinkers with Josie Taylor grazie all'elaborazione artistica di Francesco Finizio una musica d'impatto viva, gioiosa e emozionante travolgente spirituale e profonda assicurano gli organizzatori una musica che parte dritta al cuore e andiamo avanti e cambiamo argomento sarà Potenza ad ospitare questa sera la diretta sul Rai 1 del Capodanno 2020 l'anno che verrà l'evento si tiene in Basilicata ormai da 5 anni in base ad un accordo tra Regione e Rai e questo è l'ultimo anno ed è stata scelta Potenza di nuovo ieri sono stati presentati in conferenza stampa tutti gli artisti che saliranno sul palco l'anno che verrà anche quest'anno in Basilicata sarà di nuovo Potenza ad ospitare la diretta sul Rai 1 del Capodanno 2020 i nomi degli ospiti che saliranno sul palco sono stati presentati ieri in una conferenza stampa nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile del Capoluogo Lucano la serata sarà aperta dagli stadio con l'omaggio a Lucio Dalla nel casta anche Albano e Romina Gigi D'Alessio Cristiano Malgioglio la Lucana Arisa Benje Fede Lettra Lamborghini Marco Masini gli otto finalisti di Sanremo Giovani Antonella Ruggero The Colors Riccardo Fogli Rocco Ant Fausto Leali Alberto Urso Ivan Cantaneo Orietta Berti e Paolo Vallesi dalle ore 21 circa partirà la grande festa con musica e comicità una grande orchestra e un grande corpo di ballo renderanno ancora più magica l'atmosfera della piazza insieme ai gruppi musicali di eccellenza Lucani Rosmi Musica Manovella Cipiter Sesto Mantra e Carolina Re invece sarà la guida turistica che porterà gli spettatori dell'anno che verrà in giro per la Basilicata tutta da scoprire in base ad un accordo del 2016 tra la regione e la RAI a seguito della nomina di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 la sede del concerto di Capodanno resta in Basilicata fino a quest'anno la prima edizione lucana si è svolta cinque anni fa a Matera poi Potenza Maratea nuovamente Matera e chiuderà Potenza che sarà protagonista degli schermi televisivi nazionali questa sera la scelta è stata fatta a seguito dei sopralluoghi dai quali spiegano dalla regione Basilicata la città capoluogo è risultata essere l'unica ad avere i requisiti di pregnanza estetica ospitalità mobilità dotazioni di uffici e sale prove un set adiacente al palco e altre soluzioni tecniche ma dal brand Basilicata nessuno si deve sentire escluso afferma il governatore Vito Bardi con la RAI ho intrapreso continua ulteriori interlocuzioni per far sì che la regione Basilicata sia oggetto di una più ampia produzione sia dal versante del racconto turistico che da quello della fiction è stato un successo un sorriso sotto l'albero 8 la raccolta di giocattoli organizzata dal forum dei giovani di Agropoli con il patrocinio del comune l'evento nasce per donare un sorriso ai bambini meno fortunati della comunità agropolese che vivono in condizioni di indigenza o povertà estrema vediamo lunedì 30 dicembre presso la sala dei francesi del castellaggio in Aragonese di Agropoli si svolta la consegna dei doni e bambini nell'ambito dell'evento un sorriso sotto l'albero 8 organizzato dal forum dei giovani di Agropoli con il forte sostegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola che ha visto l'ausilio dei volontari della Caritas Madonna delle Grazie e del centro Aiuto alla Vita i bambini hanno vissuto una mattinata intensa piena di emozioni hanno visitato il castello incantato e incontrato Babbo Natale che li accompagna tipo nella sala dei francesi per una colazione insieme e per la ricca consegna dei doni come ogni anno si ringraziano tutte le scuole di Agropoli i volontari e i numerosissimi benefattori che hanno donato un sorriso ai bimbi in più si ringrazia un ragazzo di Pompei che vuole rimanere anonimo e l'associazione studentesca futura dell'università di Fisciano che hanno contribuito a questo bellissimo progetto quest'anno la raccolta è stata eccezionalmente generosa e sono rimasti molti regali che nei prossimi giorni saranno consegnate all'associazione cittadina un sorriso sotto l'albero afferma il presidente del forum Mattia Barbato fa parte della tradizione natalizia di Agropoli e del forum dei giovani ogni anno rimaniamo sempre più soddisfatti ed emozionati di quanta bontà la nostra cittadina riesca a donare e con questo servizio si conclude questa edizione del nostro telegiornale io vi ringrazio per la consueta attenzione dalla redazione di Uno TV l'augurio per un felice sereno anno nuovo Grazie a tutti